Buongiorno, oggi 23 luglio 2008, siamo a Bergen in diretta, ovviamente dal Tish Market, sono qui perché pare che oggi siamo arrivati esattamente 7 navide a protera di Turesti. Due piene di italiane, quindi andiamo a vedere cosa fanno i miei con i peleni a Tish Market con i polizzi, ovvero cercano di bloccarle e ripilarle la maggiore quantità di palmone. Grazie per la visione! 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 Ecco Ale, cosa è che c'è il personale? Alex, price, I want another price, price. Corona, eh? Sempre sull'economia. Ma quanto costa? Quanto costa? Questo qua è 680 grammi e viene da 140 corosce. Non abbiamo un euro? L'euro è 45. 45, eh? 45 adesso. Quanto costa? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.